già da ieri volevo fare buongiorno a tutti questo video su gigino di maio grande quello che sta succedendo a di maio è quello che succede a chiunque nelle sue condizioni si parla della fine della storia d'amore con virginia sabba cosa vi posso dire quando un uomo di potere perde il potere e di conseguenza anche il denaro intorno al potere gigino lo chiamo così simpaticamente ha perso il potere politico e ha perso anche lo stipendio lui tra poco passerà da circa perché lui da parlamentare più ministro a circa 18 mila euro al mese è un uomo di potere che tra poche settimane non avrà più nessun tipo di potere e avrà un reddito mensile pari a zero da 18 mila a zero e come sempre avviene in questi casi quando l'uomo di potere perde il potere e i soldi tutto quello che ha intorno sparisce è molto classico che finisca un amore quando si perda il potere e i soldi gli amici si allontanano gli amici quelli che giravano intorno perché era un uomo potente poteva servire quindi quello che è successo a di maio succede nella stragrande maggioranza dei casi quando un uomo di potere perde il potere il denaro perde tutto quello che c'è intorno è un classico dei classici e proprio nell'essere umano quello che è successo a di maio arrivederci a tutti